ricordi ossessivamente questa ricetta da giovane mio padre andò a lavorare in germania adesso è vecchio e di quel periodo ricorda solo i crauti stufati tre volte a settimana li prende dal barattolo li sbroglia come dice lui pela una cipolla la taglia a pezzettini e la soffrige nello strutto nella padella aggiunge i crauti le bacche di ginepro un poco di sale lo zucchero e un poco di brodo secondo lui il sapore migliore si aggiunge sui crauti uno spruzzo di vino bianco qualche volta cuoce crauti con sopra un pezzo di carne di maiale affumicato è possibile che di tutta la sua vita in germania mio padre ricordi ossessivamente questa ricetta commento è possibile perché tuo padre ha vissuto il suo lavoro in germania con la porzione del corpo mentale chiamata mente istintiva e adesso da vecchio di quel periodo ricorda soprattutto ciò che riguardava la sua vita istintiva perché il corpo non è pericolo tutto l'altro è bene sempre è è un è è è è Grazie a tutti